Salve a tutti amici e ben ritrovati, ci sono Stimit Terry e siamo qui per il episodio di Star Wars Jedi Fall Horde Stati con Khan e mangia un mondo di Star Wars Lo scorso episodio è stato un episodio di un po' di problematiche nel gruppo di Khan E soprattutto dell'impero che ci ha preso piede, forza, grazie anche a quello che sa E insomma anche sbagliando un po' le nostre leate, quindi sembra davvero un episodio in cui il nostro gruppo va in basso Siamo qui pronti a ritorno a Kashik perché sappiamo dove va il walkie che ci diceva Cordoba Per il nostro tempo l'impero è preso piede nel cantiere, solo è scappato, non so se è che lui per tirare fuori l'attenzione Non penso sia un infiggato che ci ha traditi, ma comunque siamo pronti ad andare avanti a spiegare l'impero E per scoprire cosa che andrà basta andare avanti, quindi bando alle chance e che oggi mi inizio, let's go! Cordova aveva supplies hidden all over Bogano, potrebbe essere worth the trip back to explore Allora, vedete che a Bogano ci serve la chiave, ma non sembra che a Shik stanno un po' nella, sono nella Shik, sono nell'altro Quindi direi di andare qui a farmia principale e poi andiamo a Bogano, anche se c'è sempre qui Datomir E per lo scuro, chissà cosa ci sarebbe questo pianeta Ma andiamo qui a farmia principale, andiamo ragazzi, let's go! E diciamo C'è stato un po' inizio Mi sono troppo affrontato dal tuo entusiasmo per qualcosa così... ...barbarico. Oh, sì. Cioè, è vero... ...totally barbarico, ma comunque... ...e un po' divertente. Allora, ragazzi, sentiamo. Siamo qui. ... Bene, siamo arrivati, siamo voluti a parlare col vuo che non sarà da manco per tutta affrontare... ...l'impero che è stata attivamente qui a spettarci. Oh, qua c'è un richiamo dell'Ego. Normalmente non avresti il mio tempo con i suoi insurgenti... ...ma sto cercando di un Padawan Jedi. E so che è stato qui. E per questo... ...all of you... ...will suffer. ... 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